Richard Scarry, forse un paio di voi conosce i libri di Richard Scarry che forse avete letto quando erano più giovani di adesso e qualche anno fa il museo di Anna Frank a Amsterdam mi ha chiesto di fare illustrazioni per un nuovo progetto che loro volevano fare per ragazzi della vostra età. Quanti anni avete voi? 13 anni, con 13 anni Anna Frank è entrata in questo rifugio, in questa casa nascosta e ha passato due anni lì con la sua famiglia, un'altra famiglia, un altro signore in una casa molto stretta e con 13 anni ha passato la sua vita, si è rinversato totalmente di una vita come la vostra dove avete tanta libertà si può fare quello che si vuole, studiare, compiti eccetera, però si può andare fuori, giocare, chiacchierare con gli amici e tutto questo a 13 anni è venuto come un tappo su una bottiglia e questa ragazza era inchiusa in un posto molto molto stretto e noi vedremo un po' questa storia stamattina e comincerò con un piccolo film non so quanto voi sapete di Anna Frank, c'è qualcuno che ha letto il libro? e avete disfrutato in scuola prima o niente? si, 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 ok, sapete un pochettino ok, guardiamo un piccolo film e poi andiamo avanti spero che tutto funziona